Puntata super estiva del Plutonio Publication Podcast Andremo un po' fuori i soliti miei argomenti Ma ci sta a variare L'ho fatto in passato, lo faremo in futuro E comunque è una tematica che va a toccare, a tangere Alcune cose che appartengono al genere di interessi O alla mission di questo podcast Che poi è diventato qualcosa di più complesso Ma era nato per condividere un percorso comune Fatto di ricordi, di tematiche, di argomenti, film, libri e quant'altro Appartenenti soprattutto a una generazione Che ha vissuto in pieno gli anni 80 e gli anni 90 E quindi oggi, per farla breve Ci occuperemo della commedia all'italiana degli anni 80 Che è una cosa, lo capirete, abbastanza nuova per il mio canale Anche se in realtà in passato ho parlato, per esempio Una puntata intera dedicata ad Aldo Giovanni e Giacomo E in futuro, come Lost Boy Show Ci occuperemo di monografia su Carlo Verdone E su Fantozze Fracchia, quindi su Paolo Villaggio Quindi ve lo anticipo Ed è anche il motivo per cui Non parlerò tanto di questi attori e registi in questa puntata Proprio perché avranno delle puntate tutte loro Quindi mi occuperò di alcuni personaggi iconici E film iconici di quel periodo Leggerissimi Eravamo in un decennio in cui la commedia mutava Dalla commedia degli anni 70 Che era una cosa differente Era un po' una sorta di specchio del paese Quindi attraverso il film La comicità e la commedia stessa Si andava a esplorare La società italiana in cambiamento costante Dalla fine della seconda guerra mondiale Al boom economico in poi E quindi si rideva anche a denti stretti La comicità degli anni 80 Qualcuno la fa coincidere col berlusconismo Ma in realtà è una cosa un po' troppo vaga Un po' gratuita Certo l'impulso delle tv commerciali Ha dato il via a tutti quei progetti Con dei personaggi che fra un po' vi elencherò Che hanno trovato pieno sviluppo E piena fama Proprio grazie per esempio a Fieny Invest Mediaset Ma tutto nasce poco prima Per esempio come vedremo Dal derby di Milano Dai locali, dai cabarei notturni milanesi È stata una grande fucina Sono stati una grande fucina di attori comici Che poi hanno trovato il loro spazio In una commedia molto più leggera Fatta di maschere Fatta di cose Di cose allegre A volte esagerate Boccaccesche Però come vedremo Con una certa delicatezza Che forse Non vi aspettereste Che non appartiene ai nostri tempi In cui la commedia è completamente italiana È completamente priva di mordente E trascurabile Invece no Abbiamo dei titoli che per quanto possano essere di serie B O addirittura di serie C O serie Z Sono rimasti nei nostri cuori E si fanno apprezzare ancora oggi Poi ripeto Qualità è qualità Verdone Appunto Villaggio Fantozzi Sono cose più complesse Qui magari Ve ne elencherò altre Più Più Corretto E quindi non va bene Tutte queste diatribe polemiche Viste sui social negli ultimi anni Però vi siete fatti anche voi Delle grassa risate Su questi film Scorretti Scollacciati Esagerati Metteteci tutto quello che volete E che ancora Visti ancora oggi Rimandano A un periodo In cui forse si era Certo più grezzi Ma più spontanei E oso dirlo Sottovoce Un pochino più felici E quindi diamo il via A questa carrellata Di attori di film Che hanno caratterizzato Il cinema Comico La commedia Italiana Dai fine Anni settanta Al 1990 Circa E lo facciamo Attraverso Delle brevi monografie Riassunte in un'unica puntata Di attori e registi Caratteristici Di quel periodo Il personaggio Con cui aprire Questa strana puntata Secondo me Non può essere Che Lino Banfi Pasquale Zagaria Nata ad Andrea Nel 36 Lino Banfi Forse più di altri Rappresenta Quella commedia Che cambiava Perché Dagli anni settanta Dalle commedie scollacciate Fini anni settanta La commedia sexy All'italiana A fianco di attori Come Renzo Montagnani Nelvaro Vitali E poi Le mitiche Le mitiche Edwin Fenwick Gloria Guida Laura Antonelli Nadia Cassini È passato Negli anni ottanta Appunto Questo genere Di film Commedia Che erano Sempre un po' Boccacceschi Ma meno pecorecci Se andava Davanti a qualcosa Di diverso Ancora Quindi Lo ricordiamo Specificatamente Riferito a questo decennio In pellicole Come Cornetti La crema Viene avanti Cretino Occhio malocchio Prezzemole Finocchio Ma soprattutto Poi La sua La sua Chicca Assoluta L'allenatore Del pallone Un film Che tutti Anche quelli Che non amano Il calcio Hanno visto E che conoscono Memoria E questo sia Un film Che ha rappresentato Comunque Un aspetto Importante Per quanto Ludico Della società Italiana Ovvero Il calcio Chi non si ricorda Di Oronzo Canà Veramente Conosciamo Le battute Memorie I personaggi Memoria Ci sono Dei comprimari Eccezionali In quel film Gigi Andrea Che io adoro Insomma L'allenatore Del pallone È il film Che l'ha consacrato Definitivamente Come un'icona Della commedia A tutto tondo Italiana Poi ci sono stati Altri film Come Il commissario Logatto Dell'86 Di Di Norisi E poi È passato A fare I pompieri Insieme ad altri Big dell'epoca Come Villaggio E Massimo Boldi Ma qui È già un altro Tipo di commedia Ancora Io Me lo ricordo Soprattutto Appunto Per i titoli Che ho citato Più per tutte Le cose scollacciate Che ha fatto A fine anni settanta La poliziotta Della squadra Buon costume L'infermiera Nella corsia Dei militari La liceale Il diavolo E l'acqua santa Tutti questi film Di fine anni settanta Poi Lino Banfi È diventato Ancora Uno step successivo Un'icona Rassicurante Interpretando Nonno Libero È diventato Una faccia Dell'Italia Un po' Tradizionalista Legata alla famiglia Al buonismo Buonismo in senso lato A tutte queste cose qui Però a me piace Ricordarlo Come Oronzo Canà O come Il commissario Logato Oppure come protagonista Del bar dello sport Un'altra maschera Eccezionale Di quell'epoca Che può non piacere Adesso ci arriviamo subito Che è Jerry Calà Che venendo Dai Gatti di Vicolo Miracoli Si è imposta Anche lui Come solista Proprio Negli anni Ottanta Interpretando Quasi sempre Il ruolo Del ragazzo Cresciuto Ma che non vuole crescere Quindi l'universitario Fuoricorso Il ragazzo Del Pony Express Che comunque Aveva 40 anni Il vitellone Che seduce Le turiste Spiaggia Gli è stato cucito Addosso questo ruolo Qui Il capovillaggio Di professione Vacanze Insomma Anche i film di Cala Li abbiamo visti Un po' tutti A molti non piace A me fa ridere molto È anche un personaggio Che ha lanciato Dei cliché Dei modi di dire Quindi delle battute Ripetute all'infinito Come è tanto che aspettavo Un'occasione così Oppure Doppia Libidina Libidina Quei fiocchi Insomma È un personaggio Che ha tutto Un suo modo Di recitare Molto ripetuto E molto Si è molto clonato In se stesso E infatti In quasi tutti i film Ha avuto questo ruolo Che vi dicevo Il ragazzone Che piace alle donne Pur senza essere belloccio I film Che ha interpretato Sono Sono tanti Quasi tutti Anche questi Quasi tutti Li avete visti Da Bomber Con Bud Spencer Vado a vivere da solo Sapore di mare Che ci viene propinato Tutta l'estate Al bar dello sport Come ho già citato Vacanze di Natale Vacanze in America Mitico film Che conosco in memoria Cronaca appunto Della vacanza Di un liceo O di un collegio Negli Stati Uniti Costo Tupo Costo Insieme a Don Buro Mitico Don Buro Christian De Sica Un film Un film Eccezionale Colpo di Fulmio Iuppis Giovanni di Successo Il ragazzo del Pony Express Iuppis 2 Rimini Rimini Fratelli d'Italia Nell'89 Protagonista di uno degli episodi E Qui siamo sul Limite appunto Degli anni 90 E La commedia Da lì in po' Sarebbe cambiata ancora E non in positivo Perché negli anni 90 Questo filone qua E' andato un po' Appassendo Anche se Giari Calai E' uno degli ultimi Sopravvissuti Che ha girato Per esempio nel 91 Abbronzatissimi Abbronzatissimi 2 Nel 93 Chicken Park Che vabbè Un super trash E poi Però anche lui E' andato Disperdendosi Cercando di fare film Anche un po' più seri Come Ragazzi Nella notte Nella notte Ma Senza Senza Particolare successo Però Quello che ha fatto prima Che non possiamo parlare Certo di eccellenza Del cinema E' rimasto E' rimasto E Tuttora Quando trasmettono Alcuni suoi film Li vediamo E ci facciamo Delle risate Così come ci facciamo Delle risate Con Diego Battantuono Che Lo stereotipo E' stato Lo stereotipo Del terruncello Nato a Milano Anche lui Cresciuto Artisticamente Nel derby club Uno dei più Celebri Locali notturni Milanesi Lui è nato Dalle parti Di Lorenteggio Se non sbaglio Ma è di origini Pugliesi E ha sempre giocato E ha sempre giocato molto Su questa roba qui Su appunto Il meridionale Trapiantato Anzi nato Come seconda generazione A Milano E da qui E è diventato Il personaggio Cambiava il personaggio Cambiava il ruolo Ma l'interpretazione Era sempre quella Perché a quello Veniva chiesto Abbatantuono Quello faceva ridere Di Abbatantuono Poi c'è Attila Flagello di Dio Castellano Epipolo Dell'82 Secondo me Milano Un po' esagerato Per Per Cioè Alla fama è un po' esagerato Per i meriti Artistici Che ha Un film che a me fa ridere Ma non fa impazzire Cioè Non ho quella Magna di rivederlo Tutte le volte Che lo trasmettono A differenza Per esempio Dell'allenatore Del pallone Comunque Abbatantuono Anche lui Icona assoluta Fortissima Degli anni 80 Per quello che riguarda La commedia All'italiana Sempre a Milano Sempre a Milano Citiamo Uno che secondo me È qualche step Superiore Rispetto a Carà E Abbatantuono Forse possiamo porlo Ai livelli di Banfi Parliamo di Renato Pozzetto Nato nel 40 A Milano Impostosi Negli anni 60 Con il duo Comico Cocchi e Renato Poi anche lui Si è fatto le ossa Oltre che All'Osteria dell'Oca Milano Si è fatto Le ossa Nel derby A Milano Dove Come Cocchi e Renato Ha avuto Un grande successo E poi È passato al cinema Negli anni 70 Ma negli anni 80 Negli anni 80 Si è imposta Sua carriera D'attore Interpreta Numerosi film Cinque di quali È anche diretto Girando insieme A grandi attori Del panorama italiano Tra cui Celentano Lamuti Il film Il film di cui Tutti conoscono Le battute Le situazioni Che tutti rivedono Magari per la centesima volta Se viene Trasmesso Su un canale Televisivo Quasi sicuramente Su Mediaset Artemio Qui abbiamo Dobbiamo un po' Ricalcare Un pochino Della commedia sociale Negli anni 70 Ma molto in chiave divertente Quindi Vita di campagna Conto vita di città Poi abbiamo È arrivato mio fratello Lui è peggio di me Grandi magazzini Sette chini Sette giorni Con Verdone Noi uomini duri Roba da ricchi Insomma Tanta tanta roba Fino agli anni 90 Poi ha fatto le comiche 90 e 91 Che a me Non fanno impazzire Nel 92 Ha avuto Secondo me Un'altra ottima Performance Però passata Passata un po' in sordina Richie Barabba Con Christian De Sica Interpretato da Christian De Sica E poi è andato anche lui Come tutta quella commedia Negli anni 90 Disperdendosi Un pochino Purtroppo Comunque Pozzetto Grandissimo Protagonista Grandissima Volto E recitazione Degli anni d'oro Della commedia italiana Così come l'è stato Lo sfortunato Massimo Troisi Autore, comico, regista Sceneggiatore Nato nel 53 E ahimè Scomparso giovanissimo Nel 94 Esponente della nuova Comicità napoletana Nata da Più o meno Negli anni 70 Veniva chiamato Il pulcinella Senza maschera Ed è considerato Anche stato considerato Uno dei maggiori Interpreti Della storia Del teatro Del cinema Italiano Ha fatto non tantissimi film Ma quasi tutti Sono memorabili Anche perché appunto È entrato nel cuore Non solo dei napoletani Ma di tutti gli italiani In film come Ricomincio da tre Di cui anche regista Scusate il ritardo Non ci resta che piangere Con Roberto Benigni Regia di Roberto Benigni Film eccezionale Bellissimo Poetico Di cui molti Avrebbero voluto Un sequel Che non c'è mai stato E poi ancora Altri film Meno ricordati Come Le vie del signore Sono finite Sempre con la sua regia Splendor Con la regia Di Ettore Scola Pensavo fosse amore Invece era un calesse E infine Infine Il postino 94 Poco prima Della sua morte Insomma Purtroppo Così un altro Come è stato ancora Proprio sfortunato Scomparso di recente Francesco Nuti Rappresentante Di un certo modo Di fare commedia Toscana Attore e regista Ha avuto Una vita sfortunata Purtroppo Non staremo A recuperare Questioni di gossip Storie tragiche Di famiglia Personali Ma Appunto È stato costretto Molto tempo In carrozzina Ci ha lasciato Pochi Ma ottimi Film Diversi Come comicità Da quelli Di cui ho parlato Finora Fin come Madonna che silenzio C'è stasera Io chiaro all'oscuro Tutta colpa Tutta colpa del paradiso Soprattutto Quello che ricordo Di più Caruso Pascoschi Di padre Polacco Quelli signori Vengo da lontano Il signor Quindici Palle Poi la sua carriera È andata in declino E poi è andata in declino Anche la sua vita Personale Una comicità La sua più Più nonsense Più Assai particolare Diciamo fuori Forse dal contesto Di quegli anni Diversa Sicuramente Ecco Diversa Diversa Molto diversa Però È rimasto nel cuore Di molti Ed è un peccato Che anche ora Che è morto Nessuno Il giorno della sua morte Che corrisposto Ahimè Al giorno della morte Di Berlusconi Nessuno Aveva ritrasmesso Su una grande rete nazionale Qualche sua pellicola Vabbè Sappiamo che Non tutti Sono signori Non tutti Riconoscono i meriti Che un artista Ha avuto Anche nel momento Della sua scomparsa Ho già poi citato Christian De Sica Che non è mai stato L'interprete Protagonista Principale Dei film Comici E delle commedie Di quegli anni È sempre stato Un comprimario Di lusso Ed ha sempre regalato Qualcosa in più In tutti i film In cui ha partecipato Penso Per esempio Appunto A Sapore di mare Con Giare Cala Marina Suma Penso A Vacanze di Natale Con Cala Claudio Amendola E ad altri film Come Vacanze in America Dove appunto Ha interpretato Don Buro Secondo me Uno dei personaggi Suoi più riusciti Yuppies Giovani di successo Di Vanzina Yuppies 2 Borotalco Con Con Verdone In cui fa appunto Un comprimario Assolutamente Perfetto In quel contesto E E altri film Acqua e Sapone Sempre con Verdone Insomma Ha fatto Tanti tanti ruoli Da spalla Ma Da spalla Di qualità Proprio facendo ridere Poi me lo ricordo In Fratelli d'Italia Dove Dove interpreta Raul Gardini Finge di essere Il figlio di Raul Gardini Per fare una vacanza Con i Vip Lui è un coattone E alla fine Sbotta Scoprendo le sue origini rustiche Manda al diavolo Tutti i ricconi Con cui Si è fatto le vacanze Sfruttandoli E Chiude il film Mandando al diavolo Un'anziana aristocratica Pupetta Che si propone Di fare un drink Non sapendo ancora Della sua vera identità Gli propone un drink E lui Lui Christian De Sica Le risponde A bambolì Ma vatte la piglia Ander culo Proprio Tocco di classe Però bellissimo Bellissimo Una battuta citata Mille volte Nelle mie conversazioni romane Di diversi anni fa Insomma Christian De Sica Magari non un finissimo Finissimo interprete Del cinema italiano Ma sicuramente Un interprete Funzionale Azzeccato Della commedia italiana Poi ci sono altri attori Che a me magari Piacevano meno Però hanno avuto Il loro successo Poi il suo Massimo Boldi Penso A Montesano Che non mi ha mai Fatto ridere Più di tanto Perché però Hanno avuto Il loro successo Accidenti In quello specifico ruolo lì E in più Vorrei spendere delle parole Per le maschere Le maschere I caratteristi Che hanno accompagnato Magari ruoli minimi Tanti film Dando Come quel Ingrediente in più Per rendere un piatto Da buono Ottimo Mi viene in mente Subito Mario Brega Io ho un'adorazione Per Mario Brega L'abbiamo visto In tanti film di Verdone Ma non solo Secondo me Ha quel ruolo Che Ora non esiste più Ora le commedia L'italiana A parte che hanno già Dei protagonisti Scarsi Molto scarsi Ma hanno anche L'assenza completa Dei caratteristi Delle maschere Dei personaggi Che si imponevano Con battute Con Ruoli minori Ma assolutamente unici La Sorarella Ennio Antonelli Ennio mi pare che si chiama Che ha fatto anche Sparta Cosacchi Nel Nel film Nella serie Dei ragazzi Da terza c Ho sempre Parlando Dei ragazzi Da terza c Perché no Fabrizio Barconieri Fabrizio Barconieri Poi ha avuto Una vita Complicatissima E' molto controversa Dopo il successo Dei ragazzi Da terza c Ma è comparso Anche in tanti ruoli Cinematografici Come caratterista Ecco Verdone Ne ha scovati tanti Ma anche abbiamo In altre commedie Ancora più grezze Abbiamo Jimmy il fenomeno Abbiamo Bombolo Abbiamo Alvaro Vitali Queste figure Quasi grottesche Che però Strappavano Delle risate Magari Attraverso i metodi Ironizzando Di cose Proprio Basse Come le scoregge I rutti Battute A sfondo Diciamo Boccaccesco Però facevano Facevano ridere Ragazzi Adesso Non stiamo parlando Di grande cinema Ma facevano ridere C'era più spontaneità In generale In quella commedia Non si cercava Di piacere a tutti Ma si cercava Di far ridere Bene Di far passare Un'ora e mezza Di divertimento Molti di film Non potrebbero essere Più girati Perché Risulterebbero offensivi Per tremila Fazioni Minoranze O presunte tali Senza Capire Che spesso La parolaccia L'espressione Un po' Non piacere Ma era così C'era una forte Dose Di Realismo In chiave Spesso Surreale Comicità Esagerate Boccaccesca Ripeto Questo termine Quindi questi Sono i ricordi Che io ho Della commedia L'italiana Delle anni 80 Potrebbero citare Tantissimi altri titoli Ci sono tutte Le vacanze di Natale Ci sono tutti I film con Infermieri Dottoresse Colonnelle O via dicendo Quelli mi piacevano Più o meno I film che mi sono rimasti Particolarmente in testa Sono questi Quelli Di Banfi Qualcuno Di Calà Sicuramente Ripeto Tutto Tutto Verdone Su cui però Torneremo In altra sede Tutto Tutto Villaggio Su cui Torneremo In altra sede Perché meritano Proprio Degli approfondimenti A parte E dei discorsi A parte Delle puntate A se stanti E Poi anche Molti film Tipo Gigi Andrea Mezzo destro Mezzo sinistro A Capuco Prima spiaggia Destra Cioè Un film Anche qui Siamo anche Un po' sotto A serie B Però facevano Ridere Era una comicità Grossolena Ma spontanea E studiata Spontanea E studiata Sembra Un controsenso Ma non lo è Perché i personaggi Erano spontanei Per carattere Ma le battute Erano studiate A tavolino Fatte molto bene Adesso Le sceneggiature Delle commedie Recenti Sono Assolutamente Scialbe E Qualche eccezione Non Strappano Tiepide Risate E non Non coinvolgono Affatto Lo Lo spettatore Secondo me Tant'è che Mi ricordo Pochissimi titoli Usciti dal 2000 In poi Per non dire Nessuno Mentre mi ricordo Benissimo I titoli Degli anni Ottanta I titoli Soprattutto Della metà Degli anni Ottanta Dall'ottanta Quattro L'ottantotto L'ottantasetto L'ottantotto Va bene Lascio a voi La parola Fatemi sapere Se avete amato Se vi siete fatti Delle risate Con questi film Se le ritenete Troppo Plebei Per i vostri gusti Che ci potrebbe Assolutamente stare Se avete altri titoli Fatemi Elencatemeli Fatemi sapere Quali sono le vostre Commedie Anche demenziali Che ancora oggi Riescono a strapparvi Una risata E Magari migliorare Un giorno cupo Io sono Tutto Tutto orecchie Si può dire Posso Vedere Queste Queste Commedie Che mi suggerite E Parlarvene E Discuterne In sede Di commenti Io vi saluto Vi rinnovo Buole vacanze Siete in vacanza Qui Credo che andrò online Anche settimana prossima Vediamo un po' Magari con qualcosa Di diverso ancora E E poi Vi rinnovo Anche l'invito Iscrivervi Al mio canale Youtube Se mi sentite Su Youtube A Spreaker O Spotify Se mi ascoltate In formato podcast Su queste piattaforme E A seguirmi Su Telegram Sul canale Telegram Di nuovo Alla prossima E buone risate a tutti Direi Accidenti Buone risate a tutti Alla prossima